Paolo Paoli News, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate e seguite le pagine Facebook, ciao! 10 giorni fa, su moltissimi americani, un buco grande notizia, tradotta in italiano, fan di a tutta reality, gioite, un comunicato che ha ricavato, che è rilevato il reality show animato, ormai cult, torno, sta tornando, su Cartoon Network e HBO Nightmares, forse anche su K2NE 2022 in Italia, chissà, con due nuove stagioni per a tutta reality l'isola, il reality show più divertente del mondo, sta per tornare, forse è un continuo, è brutto, chissà, mi sembra un re via, senza genitori, telefoni, che peccato per lei, e nessuna pietà, la nuova serie animata introdurrà un nuovo cast di concorrenti adolescenti, cetici e incontri, mentre affrontano la sopravvivenza e limitazioni brutali e più dramma che mai, dopo la conclusione del tutorial di l'isola di Pachide nel 2014, la serie sembrava di aver fatto il suo corso, E dunque, conclusa, pronti ragazzi? E chissà, se ci saranno Owen, Duncan, Easy, Noah, eccetera eccetera, e si, torna Chris McLean e Chef Uncet, sono contento di cazzarci, anche se mi piace Tutto Reality il Tour, continua Tutto Reality le Origini, e continua Tutto Reality le Origini su K2, Siamo sempre puntati, anche su Top, di Atuto Reality l'isola di Pachide, in caso lo riguardo, lo riguardo, le vecchie stagioni di Atuto Reality in estate, su Youtube, è bello, e lo recentisco, questa estate, come seconda puntata, di Tessiglone Show estate, con Atuto Reality, che ne dite? e hanno rimesso, sul campo di Buonacqua, non lo so, e vediamo prossimamente nella nuova stagione, e quindi, forse nel 2022, 2023, annuncerà il nuovo Atuto Reality l'isola, quel reboot di questo coso, lo saprete ragazzi, lo saprete, va bene, iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, commentate, e guardate i video per favore, questo è l'annuncio della nuova stagione di Atuto Reality, e non dimenticare la terza stagione di Atuto Reality d'origine, che ce sono due concorrenti, uno di La Vendetta dell'isola, e un altro di Isola di Pachide, cioè Suga e Lightning, va bene, va bene, e noi ci vediamo al prossimo video, beh, ciao! Ciao!